Qual è il principale errore che può uccidere la credibilità di un personaggio e la credibilità di una storia? È il conflitto discontinuo, è il procedere a scatti nella evoluzione del personaggio. Bene signori e signori, io sono Duca Rebagionette e insegno agli scrittori come scrivere storie più emozionanti, più coinvolgenti. Insegno in pratica la scrittura immersiva e insegno anche come progettare storie usando la progettazione, diciamo gli schemi, l'arco di trasformazione, non come dei blocchi, non come delle barriere, come degli impedimenti, come delle catene, ma come degli stimoli per attingere la propria reale creatività. Oggi voglio parlarvi di un piccolo brano tratto da pagina 104 di L'arte della scrittura drammaturgica di Lagio Segri per stimolarvi una riflessione su come evolvere psicologicamente il vostro personaggio. Sentite qui. Uno dei principali rischi dei conflitti discontinui, però vedremo che cosa sono, è che l'autore sia convinto che il conflitto cresca gradatamente e si offenda quando qualcuno gli fa notare che invece procede a scatti. Quali sono i segnali di pericolo che l'autore può individuare? Come può accorgersi che sta andando in una direzione sbagliata e qualcuno indicazioni? Nessun uomo onesto diventa un ladro dal giorno alla notte. Nessun ladro diventa un uomo onesto nello stesso periodo di tempo. Nessuna donna equilibrata lascerà suo marito su due piedi, senza previa motivazione. Nessuno scassinatore progetta un furto e contemporaneamente, notate contemporaneamente, lo realizza. Nessun atto violento è mai stato portato a termine senza una preparazione mentale. Notate preparazione mentale. Nessun naufragio è mai venuto senza una vaida causa. Mancava una parte essenziale da nave. Il capitano era operato di lavoro, inesperto o malato. Anche quando una nave entra in conflitto con un iceberg, c'entra una negligenza umana, eccetera eccetera. Allora, cosa significa questo? Significa che quando in una storia il lettore, lo spettatore percepisce che il conflitto, in questo caso il conflitto è il contrasto, le vicende drammatiche, il personaggio vuole qualcosa o qualcosa gli si oppone, procede a scatti e perché non percepisce, non capisce l'evoluzione del personaggio e perché non capisce l'evoluzione del personaggio? Perché non la stiamo rendendo chiara. Magari dentro di noi è tutto chiaro, ma noi non stiamo facendo vivere i vari passaggi che portano quel personaggio da essere un uomo onesto a un uomo disonesto, da essere una persona che non ha ucciso nessuno, qualcuno che uccide qualcuno. Dobbiamo sempre riempire questi vuoti informativi, ovvero cosa dobbiamo fare? Ci sono vari metodi. Allora, il primo può essere seguire una procedura di crescita costante del personaggio, quindi il personaggio da codardo a coraggioso può avere un percorso dove attraverso vari step nell'arco della prima metà della storia, fino al cambiamento che arriva tipicamente a metà storia, si troverà a dover spingere sempre un po' di più a fare azioni sempre un pochino più coraggiose. Prima magari immaginare di fare cose, essere sul punto di farle, non avere motivo di farle, ma nella sua testa va deciso di farle. Poi fare una piccola azione, più coraggiosa del solito. Affrontare verbalmente qualcuno in una situazione tecnicamente priva di pericolo. Puoi fare qualcos'altro, 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 fino a diventare finalmente una persona che per abitudine, per adattamento, adattamento costante a stimoli gradualmente sempre più fuori dalla propria zona di comfort, arriva a essere coraggioso. Questo è un metodo. Vediamo tutta l'evoluzione, vediamo tutto quanto, percepiamo tutto quanto. Ma l'evoluzione non è sempre così. Noi sappiamo che le persone possono cambiare di botto. Ci sono persone che smettono di fumare dal giorno alla notte. Da un momento all'altro decidono, non smetto di fumare. Scatta qualcosa dentro di loro. Questa cosa può succedere spesso in una storia. Il personaggio può resistere, resistere, resistere senza cambiare per la prima metà della storia. Poi improvvisamente un grave trauma lo mette spalle al muro del tipo cambia o muori e il personaggio è obbligato a cambiare il proprio schema di valori, proprio la prima percezione del mondo, meglio, meglio la prima percezione del mondo, e liberare la propria capacità interiore. Quindi una persona che può perfettamente essere coraggiosa, può perfettamente affrontare i pericoli, è obbligata a cancellare da sua mente le, diciamo, stronzate che si raccontava che gli impedivano di affrontare con coraggio i pericoli. Cioè ad esempio di essere assertivo, reagire in modo oppure essere addirittura aggressivo, ok? Qualcosa si sblocca, può essere tipicamente un contrasto su un valore. Quindi il tuo personaggio dà valore a una certa cosa, improvvisamente quella cosa viene minacciata, l'ho obbligato per coerenza con quel valore ad abbandonare un comportamento che prima pensava di essere idoneo alla coerenza con quel valore. Per esempio, noi possiamo avere un cambiamento improvviso, no? Immaginiamo un esempio che mi piace fare, tratto dal colloquio motivazionale di Rollnick e Miller, è l'esempio di un padre che a un certo punto smise completamente di fumare, ok? Come smise? Molto semplice. Doveva andare a prendere i suoi due figli alla biblioteca perché stava per piovere, ok? Cioè li va a prendere e sta per piovere. Si ferma con l'auto di fronte alla biblioteca, i suoi figli stanno che sta per arrivare, sta piovendo, ok? E lui li deve prendere e lui pensa, ok, sta piovendo, devo prendere i miei figli e cazzo ho finito le sigarette, come faccio? Allora aspetto un attimo. Beh, voglio dire, in due minuti vado in fondo alla strada dove c'è il tabaccaio, compro le sigarette e torno indietro, cosa succederà mai? Quindi lui dicendo, pensando questa cosa, parte con l'auto, mentre parte con l'auto, poco dopo vede in uno specchietto retrovisore i suoi due figli sotto la pioggia torrenziale su marciapiede. Improvvisamente lui che dava un grande valore all'estero un buon padre alla sua famiglia, si è accorso di una cosa, che con la scusa che si ha raccontato sono solo un paio di minuti, figurate se i miei figli escono subito. I suoi figli probabilmente stavano guardando dal vetto della porta della biblioteca e appena lui è arrivato, due secondi si sono accorti che era lui e sono usciti. O una cosa simile, oppure l'hanno visto alla finestra, in 30-40 secondi sono usciti. Lui però si è raccontato questa cosa, invece di pensare che lo stavano aspettando, si è raccontato il, figuriamoci se, due minuti ci sono, corro in tabaccheria, prendo, torno indietro, chi se ne accorge e prendi i miei figli. Invece no, lui si è visto che questa balla che si raccontava in realtà era una balla e quello che ha fatto è stato mettere il bisogno di procurarsi le sigarette davanti ai suoi figli. Sarebbe bastato letteralmente aspettare l'arrivo dei suoi figli, prenderli in auto, andare in tabaccheria. Si è avvisato il comportamento ragionevole, ma lui era talmente ossessionato dal bisogno di avere le sigarette e averle subito, che non ha pensato a questo, ha pensato prendo le sigarette, ha pensato mette in secondo piano i miei figli. Questo importante scontro valoreale, scusate, prendo un sosso d'acqua, l'ha portato a decidere di smettere di fumare, perché il fumo è diventato il qualcosa che lui metteva, la dipendenza che lui metteva davanti alla propria famiglia, ok? Ma in tutto questo c'è un grosso discorso dietro. Abbiamo una persona che ha un grosso valore verso la sua famiglia, abbiamo una persona che magari già più volte si è trovata a pensare alla questione del fumo, cioè non è che da un momento all'altro tu colleghi il fumo a essere un cattivo padre. Ci saranno stati molti altri piccoli episodi che l'hanno portato a pensare che la sua dipendenza potesse essere collegata a essere un cattivo genitore. Pensieri relativi al fatto di poter avere un tumore, magari lasciare i propri figli quando ancora saranno molto giovani, può essere, o tante altre cose. C'è un'evoluzione nascosta, di cui ovviamente il colloquio motivazione non parla perché gli parla del momento in cui arriva un grande trauma che porta uno sconto valoreale, ma prima di arrivare a quel grande trauma probabilmente ci sono una serie di cose che si contruiscono nella mente lentamente fino a permettere che quel trama permetta quell'evoluzione. Noi in narrativa dobbiamo mostrare più che possiamo di queste cose, anche se il personaggio le rifiuta, cioè le ascolta e dice no ma figurati, no ma figurati, no ma che cavolo, no ma può essere. Comunque nella sua mente si sommano, si sommano, si sommano queste vocine che noi dobbiamo sapere che ci sono, dobbiamo vedere questi episodi, dobbiamo sentire i suoi pensieri, dobbiamo capire fino a quando a certo punto esplode. Può essere il personaggio che magari vuole proteggere la sua famiglia, tenta di proteggerli, di difenderli, ad esempio può essere una famiglia espansa, quindi può avere il cugino che fa una cazzata e c'è una pizzeria che non funziona, lo zio che ha fatto un'altra cazzata, quest'altro, cioè tutto un gruppo di familiari così, gli tenta di proteggerli, cose, fino a quando deve arrivare a capire, primo che francamente sono un banco di svantaggiati che non meritano niente e deve smettere di prendere sulle spalle il carico di questa grande famiglia espansa che lui vorrebbe difendere da se stessa e quindi magari prima potrebbe voler tentare di dire ok adesso vi do gli ordini, io basta per fare basta, possibilità questo, quello, fai questo, oppure fuori dai coglioni eccetera eccetera, tipo col cugino pizzaiolo che non vuole capire, lui gli ha anche prestato dei soldi, diventa scusa, tu stai facendo queste minchiate, non fai questo, non fai quello. Cambia, fai queste cose, altrimenti fuori dai coglioni e non ti darà un altro, neanche altri 500 euro, ok? Oppure un altro familiare eccetera, poi a un certo punto arriva a capire magari ancora di più, arriva a capire che non gliene frega un cazzo, ok? C'è un'evoluzione in cui il personaggio capisce, 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 magari in questo caso l'evoluzione deve essere di capire che lui deve smettere di essere schiavo della prima famiglia, deve capire che le persone non cambiano se non vogliono cambiare, che non puoi controllare il destino delle persone, che devi lasciarli semplicemente andare, puoi consigliarli, ma questo agli altri scegliere. E dobbiamo vedere questa evoluzione, sentire, 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 magari avere diversi passi, diversi, diversi momenti, un tentativo maggiore di controllo, un tentativo minore di controllo, cose varie che poi lo portano a dire andate tutti a fare in culo, io ho fatto quello che potevo, poi sono cazzi vostri, ognuno è libero di rovinarsi la vita, chiaro? Ok? Quindi non dobbiamo percepire questi cambiamenti, o vedendo un graduale cambiamento, o vedendo una costruzione interiore di resistenza, in questo caso lui che tenta sempre di più controllare gli altri, controllare, controllare, controllare per il loro bene, fino a quando rinuncia completamente e li manda a fare in culo, perché capisce sono un branco di idioti, deve essere un ottimo midpoint su un personaggio che dà troppo... ha un difetto legato al volere che tutto sia perfetto, tutto vada bene, tutti siano felici, e quindi vuole perennemente intervenire per aiutare i suoi familiari e questo li fa fondare la sua vita, ok? Magari prima lo fa in un modo gentile, poi diventa più di controllo, eccetera, eccetera, poi alla fine capisce che deve mollarli, può essere. Oppure può essere una storia basata come quella legata alla codardia, il personaggio di per sé è competente, è forte, è combattivo, tutto quello che volete, ma a un certo punto ha cominciato a temere proprio la vita, come nel romanzo Abaddon di Giuseppe Mencori. In questo caso abbiamo una resistenza, lui resiste, 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 fino a quando un grave trauma, ma noi abbiamo visto nel frattempo tutti la costruzione intera di lui che si sente un codardo, si sente che i suoi uomini non si fidano di lui, vede che le cose vanno male, cioè c'è una lunga costruzione in quel giustificato che dopo l'ultima botta, porca troia, non si può andare avanti così, cioè dopo l'ultima botta alla fine è obbligato a dover affrontare il fatto che non c'è un altro modo per sopravviare, che non sia tirare fuori di nuovo le palle e riprendere a combattere davvero, perché lui comunque era in grado di farlo, chiaro? Quindi vedete che sia esplicita attraverso una costruzione graduale, o che sia una costruzione interiore, attraverso una resistenza costante, che porta poi a una consapevolezza graduale, quindi in un percorso abbiamo consapevolezza seguita da evoluzione graduale, ma ogni volta il passo fatto non basta, ne serve uno in più, fino a quando arrivi al midpoint e fai il passo veramente importante, che non sarà quello finale della storia, ma sarà quello diciamo del grande cambiamento, ok? E un'altra in cui si resiste, non si compiono i passi, ma dentro di sé la consapevolezza diventa sempre più alta, la capacità di resistere a questa consapevolezza diventa sempre più risicata, fino a quando si rompe tutto, si manda in crisi in modo definitivo il valore che si cercava di difendere, e il personaggio obbligato a cambiare. Vanno bene entrambi i modi, ma l'importante è che il lettore lo percepisca, il lettore non deve vedere il tuo personaggio gentile, cordiale, topo da biblioteca, persona che non fai male a una mosca, improvvisamente prendere un cacciavita e conficcarlo nel cranio di una persona. Questa esplosione improvvisa diventa ingiustificabile, diventa il personaggio è cambiato di botto, non ha senso, non dobbiamo vedere una costruzione. Dobbiamo avere vari segnali, per esempio, potremmo vedere in una serie tv questo personaggio avere vari momenti sempre più difficili in cui ha problemi a controllare la sua rabbia. noi lo vediamo gentile, bonario e tutto quanto, ma vediamo anche che questa cosa è una facciata che l'usa per nascondere il fatto che sta controllando la propria aggressività. Poi magari scopriamo qualcosa del suo passato, che ad esempio quando era molto giovane, non so, all'epoca delle scuole superiori, aggredito e ferito con una coltellata una persona, ma la cosa è stata poi bla 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 girata in un certo modo, alla fine comunque era una rissa tra vari ragazzi, bla bla bla, si è deciso di non fare niente, lui da questa cosa è rimasto traumatizzato, ha passato un anno in un ritiro, in una comunità, in un qualcosa e ne è tornato completamente diverso. Ma è un completamente diverso lui che tratteneva, adesso che lui viene continuamente maltrattato, i suoi diritti vengono calpestati, eccetera, lui continua a trattare, eccetera, ma lui dentro è in grado di scattare e vedremo finalmente a un certo punto tirare fuori la stessa capacità di fare violenza, che lui stava trattenendo da dieci anni, da cinque anni, da dieci anni, da quello che vuoi, finalmente esplode quando non riesce più a farcela. Una costruzione così può essere accettabile, ma il tizio che è buono e basta e poi improvvisamente spacca un cacciavite nella testa di qualcuno, no, chiaro, dobbiamo vederla. Qualche volta la vedi da dentro il personaggio ma non da fuori, in narrativa si può fare, percepire più da dentro che da fuori, io consiglio comunque che vi sia sempre un effetto anche esterno, di qualche tipo, cioè vedere in modo chiaro che il personaggio sta cambiando, ok? Ad esempio potresti avere un personaggio che dentro di sé ha questa evoluzione, noi da fuori non la vediamo ma dentro di sé c'è, e ad esempio la codardia in Abaddon è molto interiore, cioè lui continua a fare le cose di prima, a comandare rimanendo molto prudente, e la sua prudenza è frutta della sua codardia, quella dell'attato dovrebbe essere meno prudente per avere una maggior capacità di guidare i suoi uomini, di eccessiva prudenza, e la vediamo da dentro, noi sentiamo dentro di lui che lui si sente in un certo modo, trattato in un certo modo, non sta facendo qualcosa divisivo che ci faccia capire che sta sempre di più facendo fatica a cambiare, ok? Bene signori, allora, quindi quello che importa è questo, non dovete avere un cambiamento improvviso, un cambiamento a scatti, il cambiamento deve essere graduale, pensate sempre all'interiorità classico caso del personaggio che perché ha una qualche deformità fisica, un naso grosso, evolve tutta la sua personalità in un certo modo, e uno dice cosa c'entra questo? C'entra col caso che il tuo personaggio col naso grosso magari a un certo punto ucciderà qualcuno, e uno dice ma cosa c'entra il naso grosso che ucciderà qualcuno? Questo è un esempio, il naso grosso e personaggi con piccole deformità che ossessionano per tutta la vita è un esempio che fa la Giosegri, in mi sembra sia l'arte del personaggio, ricordo giusto il titolo, c'entra perché anche lì da dentro il personaggio tutta l'evoluzione come lui ha creato una serie di pensieri tossici sulla sua vita, un'ossessione per questo naso che lo porta a sentirsi continuamente osservato, a sentirsi svalutato, eccetera, eccetera, che lo porta a percepire le cose in un certo modo, fino a quando può avere, e tutti diranno è esploso all'improvviso, era impossibile pensarlo, era impossibile prevederlo, in realtà dall'interno della mente del personaggio l'evoluzione è stata continua ed era perfettamente prevedibile, quello scatto finale in cui succederà quella cosa, ok? No, ovviamente più cose vediamo, più la cosa è chiara, ovviamente un'evoluzione di 30 anni nello spazio di un romanzo non è visibile in quel modo, noi dobbiamo concentrarci sull'evoluzione che parte all'incente scatenante in poi, fino al midpoint, li vedremo la fase che va dettagliata, veramente importante di questa evoluzione, ok? Bene, spero che l'evoluzione del personaggio sia chiara e bisogno che il conflitto non sia discontinuo, non sia basato su cose che avvengono un po' a caso perché l'evoluzione va a scatti, spero sia molto chiaro. Io vi ricordo che settimana prossima sarà la settimana, tra virgolette, del compleanno ducale, perché io compro gli anni 5 maggio, e ho delle novità per voi, alcune le ho accennate nella live di martedì scorso con Alessandro De Concini, ho accennato alcune cosine, avrete le altre novità a breve, io vi consiglio di stare molto attenti ai video della prossima settimana, ci sarà un'offerta molto interessante e alla prossima!